La scorsa notte una ragazza di 17 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo via provinciale Napoli nel quartiere di Pianura. La giovane in sella al suo scooter avrebbe perso il controllo del veicolo per una precedenza non rispettata da un'auto, sulla quale viaggiavano due ragazzi che successivamente sono scesi dall'auto, si sono diretti dalla ragazza per aggredirla. La minorenne avrebbe così immediatamente chiesto aiuto ad alcuni amici e anche loro una volta arrivati sul posto sarebbero stati aggrediti e coinvolti in una maxirissa. Si tratta di due ventenni incensurati, uno colpito al gluteo con un coltello e l'altro picchiato. 15 giorni di prognosi per entrambi. I carabinieri del nucleo radiomobile che ora stanno indagando per ricostruire l'accaduto sono intervenuti nel pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. Ha certamente in corso per chiarire la dinamica dell'incidente e degli scontri e per identificare tutti i responsabili coinvolti.